buonasera usciamo un pochino più tardi questa sera perché siamo usciti un po più tardi questo pomeriggio e quindi cerchiamo di compensare il ritardo dell'uscita di questo pomeriggio motivato dalla conferenza stampa di allegri andando un pochino più lunghi in serata intanto è maturata qualche convinzione più sulla formazione ma ne parliamo dopo ne parliamo dopo perché di cosa parliamo adesso Pogba 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 parliamo perché tanto se ne parla sempre cioè da quando Pogba è tornato al Manchester United dal giorno dopo si diceva United dal giorno dopo si diceva che sarebbe tornato alla Juve allora non va più al Paris Saint Germain a quanto pare perché il Paris Saint Germain ha virato su Milinkovic Savic queste sarebbero le grandi manovre e quindi Pogba che non rinnova col Manchester United allora avrebbe preso in considerazione la possibilità di tornare alla Juventus lui ha un sacco di amici a Torino va a Torino si trova a Torino con Dybala per esempio saranno amici o compagni di squadra l'anno prossimo ma vedremo però da qui a dire sicuramente Pogba torna alla Juventus insomma ne passa perché perché è vero che c'è il costo zero ma è altrettanto vero che secondo discrezioni ci sarebbe già stata un'offerta della Juventus a 7 milioni e mezzo più bonus per arrivare in doppia cifra il fatto è che la doppia cifra Pogba la conosce da tanti anni cioè da quando è tornato allo United e adesso lui sta guadagnando circa 14 milioni di euro metti l'anno 7 milioni e mezzo più bonus per arrivare in doppia cifra sono bonus che al massimo ti spingono a 10 andiamo oltre 11 a parte sarebbe fuori budget fuori tetto di ingaggio no Pogba è disposto ad accettare allora se è disposto ad accettare una roba del genere tanto di cappello bravissimo per amore della Juventus torna indietro e guadagna un terzo in meno di quello che stava guadagnando lo United per carità ne ha già guadagnati tanti ma questi sono i discorsi che facciamo noi umani quelli sovraumani parlo dal punto di vista economico non fanno tutti questi discorsi cioè ma me ne sono già messi via tanti a sto punto se guadagno di meno no di solito loro fanno proprio il contrario io guadagno questa cifra io vengo da te però se vuoi che io venga da te mi devi pagare di più tanto più che non paghi nulla di cartellino ora io non so se questo in questo momento è il pensiero di Paul Pogba lapsus proridiano di Paul Pogba o di Mino Rayola se devo essere sincero faccio fatica a pensare che questo possa essere il pensiero soprattutto di Mino Rayola poi la commissione la piglia lo stesso quindi alla fine non lo so però so intanto che ho caldo in questa stanza quindi apre un po' la finestra anche se c'è giù la tapparella so che è una vicenda che avrà modo di farci parlare ancora di tornarci sopra da qui a giugno o magari anche prima perché prima si saprà già qualcosa in un verso o nell'altro un po' come la situazione di Dibala e basta basta questo Dibala no basta no perché perché cavoli oh l'avete massacrato eh cioè io ho letto i commenti del video di oggi l'avete massacrato ma non perché ovviamente gli possiate addossare delle colpe perché lui non ha colpe di tutta questa situazione non ha nessuna colpa ma perché ormai non vi fidate più di lui non vi fidate della sua tenuta fisica e e quindi per voi diciamo siamo sull'ordine dell'80 per cento dei commenti che ho registrato Dibala può anche salutare la Juventus anzi c'è chi va oltre e dice sì ma chi se lo prende in queste condizioni c'è chi fa paragoni con Douglas Costa chi fa paragoni con Ramsey posso dire che la cosa mi ferisce un po' sì mi mi dispiace forse perché anche lo conosco personalmente quindi lo ritengo un ottimo giocatore e quindi mi dispiace mi ferisce la cosa mi ferisce che venga scaricato così del resto posso anche comprendere questo tipo di 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 atteggiamento da parte magari del tifoso che giustamente la vive in maniera un pochino più distaccata la questione io Paolo lo conosco da quando è arrivato alla Juventus l'ho intervistato migliaia di volte no centinaia neanche decine ecco forse anche perché non è che si presenti spesso a parlare quindi conoscendolo anche personalmente è chiaro che faccio fatica come dire a spogliarmi di questa componente e dire sì non è più affidabile fisicamente quindi la Juve fa bene a eventualmente a non rinnovare il contratto o comunque ad imporgli le condizioni che vuole detto questo ripeto mi dispiace mi dispiace vediamo perché adesso effettivamente non può mancare molto perché anche sta vicenda quale se c'è comunque a Torino quindi deve per forza uscire qualche cosa da questo incontro se se ne sarà bisogno di un altro al massimo due incontri ma basta 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 sta estenuando un po' questa vicenda qua Allegri oggi in conferenza stampa quando gli è stato chiesto dello scudetto ho detto sì ma calma adesso vi spiego l'obiettivo della Juve è sempre raggiungere il massimo poi bisogna essere realisti perché se voli con la fantasia poi cadi ti fai male eccetera 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 ci sono tre squadre sopra e poi dice attenzione l'Atalanta se vince il recupero ci manda quinti alla Juve no? perché la Juve è sotto nello scontro diretto eh no caro Allegri in questo momento almeno si stanno creando le condizioni perché questa frase non abbia un senso reale perché? perché oggi l'Atalanta ha perso a Roma contro la Roma e la Juve gioca domani con lo Spezia o la Juve si suicida e perde in casa con lo Spezia allora l'Atalanta può ancora recuperare e appaiare la Juve in caso dovesse vincere il recupero col Torino ma se la Juve dovesse anche solo pareggiare contro lo Spezia questo non potrebbe succedere anche con il recupero quindi Allegri oggi era sicuro che la Roma pervesse in casa contro l'Atalanta o meglio che l'Atalanta andasse a vincere con la Roma oppure quindi anche Allegri ci butta lì un po' di scaramanzia la sua gufatina la fa e a costo di sbagliare i conti di sbagliare i calcoli non lo so è chiaro che bisogna aspettare la Juve e Spezia è evidente in questo momento però la Juve e Spezia è 0-0 dovesse anche solo rimanere così la Juve comunque anche in caso di vittoria dell'Atalanta nel recupero potenzialmente sarebbe ancora quarta davanti all'Atalanta vediamo aspettiamo la partita di domani per la quale naturalmente vi invito a seguirmi nell'intervallo con la diretta su Facebook e ovviamente poi nel commento post gara negli ultimi secondi di gara diciamo così e poi il commento a caldo di Juventus Spezia prima di Milan Napoli che andrà a chiudere questa domenica questa domenica stop ciao a domani mi raccomando iscrivetevi al canale non dimenticatevi di farlo e non dimenticatevi di fare il porta porta il passaparola ditelo no? c'è un canale semplicissimo clic come faccio io adesso per spiegare il telefonino ciao clic